L'arcivesco metropolita di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, è intervenuto sulla nuova legge che affronta il problema del caporalato, inasprendo le pene nei confronti dei cosiddetti caporali, ma anche nei confronti dei datori di lavoro. Il giudizio di Monsignor Santoro è più che positivo. Rappresenta una vera conquista perché un annoso problema viene finalmente affrontato. Colma una grave lacuna con un intervento molto forte che mette in evidenza il valore del lavoro e per me è questo l'aspetto più importante. Così Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto e presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, giustizia e pace della CEI, commenta l'approvazione definitiva, nei giorni scorsi a Montecitorio, della legge contro il caporalato, piaga particolarmente diffusa in Puglia e nelle altre regioni del meridione. Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, pene più severe per caporali e datori di lavoro che sfruttano la mano d'opera. A margine del primo convegno nazionale per presbiteri in servizio pastorale, nelle aggregazioni dei laici, in corso a Roma per iniziativa dell'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI, Monsignor Santoro afferma è chiaro che, con riferimento alle pene, bisogna fare un'indagine più accurata. Mi sembra che certe condizioni fiscali impediscano di mettere su un'impresa. Uno dice non faccio più niente, oppure risparmio sulla mano d'opera. Per il presidente della Commissione Episcopale CEI sono necessari giusti incentivi fiscali per rendere possibile la creazione di imprese sane, anche piccole, che salvaguardino la dignità del lavoro sia degli italiani, sia di quelli che vengono da fuori, rendendo possibile una crescita armonica. Ricordando la tragedia della morte nel luglio 2015 di Paola Clemente, bracciante della provincia tarantina, morta nelle campagne di Andria, Monsignor Santoro conclude, si tratta davvero di un grande passo avanti.